Siamo qui con l'ingegnere Alfio Di Costa che quest'anno sarà il governatore del distretto 2110 Sicilia-Malta. Per la prima volta un concittadino nicosiano ricopre questa carica che è molto importante. Ci spieghi un attimo qual è il suo programma e soprattutto ci parli un attimo di questa assemblea che si è tenuta a Palermo nel fine settimana, questa assemblea distrittuale, la 46esima esattamente. Buongiorno, saluto tutti. La mia assemblea in questo momento di grande difficoltà che non ci ha potuto vedere riuniti di persona ha visto coinvolto il mondo. Ho avuto il piacere di avere il presidente internazionale Holger Knack, un presidente tedesco, c'era un componente del Consiglio d'amministrazione francese. Abbiamo avuto il governo regionale con cui abbiamo sottoscritto degli accordi di programma, salutato il presidente Musumeci, poi oltre l'assessore Toto Cordaro, l'assessore Edi Bandiera e l'assessore Lagalla. Abbiamo sottoscritto un accordo con l'Istituto Superiore della Sanità, rappresentato dalla dottoressa Roberta Pacifici. Abbiamo avuto il grande privilegio di avere Francesco Giorgino, famoso giornalista del Tg1 e anche professore alla LUIS. Inoltre abbiamo avuto Umberto Macchi, che è un esperto di social internazionali, e il professor Walter Ricciardi, che rappresenta l'Italia all'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a essere consulente del Ministro. Il pomeriggio è stato altrettanto fenomenale, con la partecipazione di donne di elevatissima qualità, perché uno dei miei temi importanti sono le donne nel Rotary e come il Rotary si mette a disposizione della società. C'era il presidente nazionale del settore abbigliamento donna, Patrizia Di Dio, che è anche presidente alla Confu Commercio di Palermo. C'era anche la dottoressa, c'era la nostra amica Maria Rita Ciardi, PDG calabrese, oltre a Fabia Mustica, che è la nostra fumettista cartoonista, che secondo me avrà una rilevanza mondiale. Ne potrei citare tanti altri. Eravamo tantissimi, abbiamo trasmesso, oltre che su Zoom, con presenze costanti, oltre le 400 persone, e anche su YouTube eravamo tantissimi. È stata un'assemblea molto seguita. Io ho voluto mettere in campo in un momento di difficoltà la più grande forza che il Rotary può mettere a disposizione della nostra Sicilia e di Malta. Io amo il Rotary, amo la Sicilia, e credo che in momenti difficili c'è bisogno di scelti difficili. E per questo ho messo in campo le nostre professionalità, tutte al servizio delle comunità vicine e lontane, in maniera del tutto gratuita. Spero di fare un programma che possa essere di aiuto verso le persone che hanno difficoltà, che incontrano, che facendo magari, offrendo screening, offrendo nuove opportunità di lavoro con commissioni, che studieranno questo. Lavoreremo un anno al fianco dei cittadini. Il Rotary crea opportunità. Il Rotary è al servizio della Sicilia e di Malta. Grazie. Allora, in bocca al lupo per questo anno da governatore. Speriamo di poterci incontrare, anche facendo poi il punto della situazione. Ogni tanto magari ci incontreremo per fare anche vedere un attimo come il suo programma va avanti. La ringrazio. Grazie. Io sono a vostra disposizione, sono a disposizione di chiunque, perché io credo che noi della nostra zona, io lo dirò anche la prossima settimana, incontrerò, io inizio dal primo luglio, però questa era l'assemblea che mi porta alla prossima settimana ad avere il collare fra 15 giorni, però noi già siamo operativi, incontrerò il Presidente della Regione evidenziando le difficoltà, le difficoltà che noi abbiamo nelle nostre vie di comunicazione. Io credo in un, e ho un mio tema, io sono, e ho messo una vera task force su, io credo che la Sicilia non può avere futuro senza infrastrutture adeguate. Noi nella nostra realtà, nella Nicosia lo sappiamo benissimo, noi rischiamo la vita tutti i giorni per poter andare a lavorare o per poterci muovere. Non è giusto, pretendiamo gli stessi servizi e le stesse infrastrutture di qualsiasi altra parte del mondo. Questo io cercherò di impegnarmi, manterrò la mia promessa e vedremo di ottenere dei buoni risultati. Grazie.